Tra tutte le arti, forse la musica è la più bella. Tra tutti i maestri, forse Tony De Vita è tra i più bravi. E quando ce vò, ce vò. And now, ladies and gentlemen, Tony De Vita and his orchestra! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Bravo, bravo maestro, bravo! Volevamo insegnirla dell'ordine della chiave di violino che anche l'ordine della chiave inglese. Volevamo insegnirla dell'ordine della chiave inglese.